Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi parliamo di un tema che interessa una percentuale molto alta di italiani che tutti, sperabilmente, aggiungo io, speriamo di poter vivere bene soprattutto. Ed è la vecchiaia. E lo facciamo con Monsignor Paglia, Vincenzo Paglia. Bentornato, Monsignor. Grazie. Emerito, arcivescovo di Terni, ma adesso presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Emilia, buongiorno anche a te. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'età da inventare, la vecchiaia fra memoria ed eternità. Sono tanti vecchi in Italia? Sono tantissimi. Diciamo che è una specie di nuovo popolo. Gli ultraottantenni sono 4 milioni. 4 milioni. Noi ultra 75 anni siamo 7 milioni. Se aggiungiamo gli ultra 65 anni arriviamo ai 12-13 milioni. Quindi una percentuale che crescerà sempre più. Siamo uno dei paesi più vecchi del mondo. Siamo il secondo paese, dopo il Giappone, più vecchio. Il che è un grande merito. Vuol dire che siamo stati capaci di allungarci la vita. Il progresso della tecna, della medicina, dell'igiene e anche il saper vivere, compreso il mangiare probabilmente. Ecco, tutto questo ci ha allungato di una ventina d'anni, anche 30, la vita. Poi le farò la domanda però come invecchiamo, cioè qual è la qualità della vita da vecchi. Altra domanda, quanti sono i vecchi non autosufficienti? I vecchi ultra 75 anni non autosufficienti in Italia sono 2 milioni e 700 mila. Qualcuno c'è ancora in più che non è censito. Una delle proposte di Vincenzo Paglia è quella un po' radicale, un po' rivoluzionaria. Non di chiudere l'RSA, di trasformare l'RSA. Di trasformarle in... E permettere praticamente a tutti gli anziani che vogliono di vivere nella loro casa, se ci ce l'hanno sperabilmente. Esatto, diceva Camilleri, scriveva un bellissimo... Spostare, togliere gli anziani dalle loro case e metterli... È come uccidere la loro memoria, non sanno più il loro passaggio. Però è difficile farlo. C'è una proposta di Don Vincenzo Paglia che è in circolazione, una carta soprattutto, che l'è stata commissionata dal Ministro Speranza, ma le immagini ci aiutano. L'Italia deve garantire i diritti degli anziani, il rispetto della dignità della persona in ogni condizione e l'impegno del Premier Mario Draghi che chiarisce l'assistenza sociosanitaria deve essere adeguata e responsabile. Quasi 7 milioni gli over 75 nel nostro paese, 2,7 milioni presentano gravi difficoltà motorie. La Carta dei diritti degli anziani disciplina anche i doveri degli operatori sanitari nei loro confronti, che prevede interventi per una piena vita di relazione. Cos'è questa carta? Ma la carta è nata perché la commissione istituita dal Ministro Speranza si è posta una prima domanda. Di fronte a questo nuovo continente che è sorto, senza che ci sia né pensiero, né politico, spirituale, economico, organizzativo, la prima cosa è stata ma quali sono i diritti di questi milioni di anziani e i doveri della società nei loro confronti. Ed ecco allora che di fronte al deserto di riflessione questa carta ha voluto indicare alcuni dei diritti principali, il diritto alla salute, il diritto al futuro, il diritto ad essere chiamati per nome, il diritto ad essere accuditi. Però Don Vincenzo questi diritti fanno parte dei diritti di ogni cittadino italiano. Ma non c'è dubbio qual è il problema, che purtroppo in questi ultimi decenni è sorto questo nuovo popolo ma come nascosto, come messo a parte il discorso dello scarto che fa Papa Francesco. Quindi questa carta non è che si aggiunge, chiarifica diritti che altrimenti non vengono considerati. Ad esempio, quante volte capita, ehi nonnetto, ha il suo nome. Vabbè, ma anche non a me, ma a Giovanotto. Sì, però un conto è che a te dicono Giovanotto e a parte anche questo, sarebbe da me. Ma quando stai in ospedale o quando stai in una casa di riposo e tu diventi neppure un numero, ecco perché è importante riscoprire il diritto di essere considerati persone fino alla fine. Chi vuole fare con le RSA? Io voglio che si riconsiderano e entrino in quello che noi chiamiamo un continuum assistenziale, cioè che gli anziani debbano rimanere il più possibile nel loro domicilio, oppure favorire il co-housing. È difficile. Ma è certo che è difficile, ma fa fatto. Se lei pensa a quello che è successo negli anni, io ricordo, come storico, dopo l'unità d'Italia non si sapeva a che fare con i bambini, che erano un enorme numero. Certo. Sono nati, per dire, centinaia di ordini religiosi femminili per gli asili infantili. E adesso per gli anziani? Dobbiamo inventare nuove prospettive. Per esempio, questi centri di urni, noi penseremo un migliaio in tutto il paese, poi favorire le reti di relazioni nei quartieri. Guardi, su questo poi le farò delle domande più dettagliate, perché mi sembra molto interessante questa ipotesi. Tra i diritti previsti alla carta c'è ovviamente quello di formarsi per tutta la vita, anche nella terza età. E noi siamo andati con Andrea Rolli all'Università per la terza età, che è un posto molto bello. La giornata che prevede di seguire un corso è una giornata in cui c'è uno stimolo in più a muoversi, a prendere l'autobus, a venire al centro, oppure fare due passi se la giornata è bella. Ed è uno stimolo mentale in più. Mi è super interessata la possibilità di seguire dei corsi che non ero riuscito a fare da giovane, in quanto tutto preso dal lavoro. Io sto seguendo adesso il 6-700 nell'arte e anche Picasso. Beh, sì, tante cose le conoscevo, ma veramente si entra in un dettaglio in cui uno non sapeva proprio nulla, uno non ricordava. E quindi, diciamo, l'acquisizione intellettuale per queste cose, secondo me, è importante per mantenersi vivi e attuali. Dopo la morte di Casagemas mi sembrava che il mondo fosse tutto completamente blu e quindi è da quel momento che ho deciso di colorare tutti i miei dipinti in blu. Sono proprio le sue parole. Molta gente dice io vado lì per fare cultura, ma perché molte volte si vergogna di dire che va lì per fare socializzazione. Le ricerche ci dicono che la maggioranza delle persone viene per socializzazione, ma la socialità fa cultura. Quindi nelle università della terza età, nelle università popolari, si fa questo da anni. Non è semplicemente un servizio, ma è un sistema, chiamiamo così, di prevenzione per la salute delle persone, perché queste attività ti fanno uscire di casa, ti fanno incontrare gli altri, ti fanno dialogare, ti danno passionalità. Ma incontrare le persone aiuta perché c'è uno scambio di idee, anche un modo per non sentirsi isolato. Che dici Don Vincenzo? Dico che qui hanno individuato le due grandi questioni dell'intera società, solitudine e isolamento, che non sono solo dell'età anziana, ma nell'età anziana esplodono. Ecco perché allora iniziative come queste, ma la commissione creata dal ministro Speranza e che ora va a Palazzo Chigi, vuole esattamente sconfiggere la solitudine e l'isolamento con l'unico vaccino, che è quello dell'incontro, del dialogo, del non rinchiudersi. Ma come facciamo praticamente? Si tratta di realizzare una nuova passione sociale da parte di tutti. Per quelli che non sono autosufficienti va organizzato ad esempio dei centri diurni con appositi operatori. La commissione prevede, soprattutto per i non autosufficienti, l'impiego di almeno 100.000 nuovi operatori. Ma ci sono i fondi per una cosa del genere? Certo che ci sono. Il programma che abbiamo previsto prevede in 5 anni 9 miliardi di spesa, se ne risparmiano intanto almeno 6-7 di spesa corrente, perché se si resta a casa non si intasano. Quindi 100.000 operatori che vanno a casa dell'anziano non autosufficienti. Esattamente, per aiutare le famiglie anche, ma per aiutare gli anziani. L'assistenza domiciliare oggi in Italia vuol dire avere 17 ore l'anno con l'infermiera. Nulla. C'è bisogno, gli anziani hanno bisogno non solo dell'iniezione, hanno bisogno di essere accompagnati, di essere aiutati. E la formazione, qui mi permetta una sottolineatura, la formazione di questi 9 operatori non è lunga, è breve. E non è neanche di grandissima, diciamo, cultura. Allora, io immagino che tutti quei nostri, i famosi NIT, loro i ragazzi, potrebbero partecipare a questo corso, prendere il diploma e fare questo lavoro. E la cosa che a me pare molto importante è che in Italia il 70% degli anziani vive in comuni dai 60.000 abitanti in giù. Vuol dire che in tutti i nostri paesi, che continuano a spopolarsi e restano soli agli anziani, se noi attuiamo questo progetto, ringiovaniamo il paese e il tessuto dell'Italia. Vogliamo fare gli avvocati del diavolo rispetto all'apprezzabilissimo sforzo di Don Vincenzo. Figuriamoci, la vecchiaia, poi tutti appunto, come dicevo, se ci arriviamo, tutti diventeremo... Il diavolo lo sconfiggiamo, non si può. Aspetti, però senta Norberto Bobbio, che è poi una questione morale che si è posta molto in questa età del Covid. Nel caso delle famiglie che hanno degli anziani spesso si trova di fronte al dovere di aiutare il vecchio oppure di lasciare un po' emarginato il vecchio e di aiutare di più i ragazzi che hanno tutta la vita davanti a loro. Il problema morale si deve porre in questo modo, di fronte a un conflitto di dovere quale deve prevalere. Io capisco, posso anche capire, le famiglie che preferiscono aiutare i figli che devono studiare, che devono continuare la loro vita, piuttosto che il vecchio che ormai è arrivato alla fine della vita e che tutto quello che poteva dare ha dato. Qui Don Vincenzo, aggiungo alle parole di Bobbio, durante l'era del Covid avevamo letto tante volte che l'anestesista di fronte alla scelta chi in tubo poteva seguire, però grazie al cielo non è stato fatto, no? Però il nostro sistema che viene considerato asimmetrico, cioè si dà troppo agli anziani in termini di previdenza e troppo poco ai giovani, non è un paese per giovani. Dunque, quando dicevo prima che c'è poca politica, si rifletta anche qui. Io ho letto più volte attentamente il libro Il Desenic Tutte di Norberti, Bobbi, eccetera, come anche questo che lei dice. Anzitutto io direi questo, che forse ai tempi di Bobbio non era così, ma oggi sono gli anziani che aiutano i giovani. Con la pensione... Non dimentichiamolo, sono i nonni che spesso stanno con i nipoti. C'è un impegno enorme... Ma è normale questo, è giusto. ...che intanto avvenga questo, al di là del giusto, è la cosa possibile. A mio avviso, il problema, secondo anche le prospettive che abbiamo studiato, c'è spazio per tutti. C'è spazio per tutti. Non c'è questo dilemma, per aiutare i giovani dobbiamo eliminare gli anziani. A parte che sarebbero associati di una crudeltà infinita. Lo sforzo, ed è possibile farlo, di creatività, è quello di aiutare i giovani. Siamo andati sulla luna. No, quello certo, però... E allora... La torta è limitata. No, non è... Qualcuno dice togliamo soldi, quota 100 ad esempio, dalle pensioni aiutiamo materialmente i giovani a trovare più facilmente il lavoro. Il problema, come già le dicevo prima, con questa ipotesi che abbiamo fatto dei 100 mila operatori, è esattamente un aiuto per ambe due le categorie. Ma qualcuno le dà retta su queste ipotesi? Io devo dire che il Presidente Draghi ha accolto molto favorevolmente, anche perché in tutto il programma si coglie una verità anche economica. Aiutare gli anziani a stare meglio significa risparmiare anche economicamente. Sì, no, questo senz'altro. E questo è il punto. Per questo bisogna avere audacia, creatività e anche un po' di passione. Papa Bergoglio sulla giornata per gli anziani. Senza il dialogo fra i giovani e i nonni la storia non va avanti, la vita non va avanti. Una nuova alleanza tra generazioni è l'appello di Papa Francesco in occasione della giornata dei nonni e degli anziani. Nella Basilica di San Pietro la messa celebrata da Monsignor Fisichella. Nonni e anziani non sono avanzi né scarti da buttare, dice il Pontefice nell'Omelia letta da Fisichella. Pensare solo per sé uccide, avverte Bergoglio. Vabbè, quindi l'abbiamo messa sul piatto d'argento. Sì, è ovvio, perché è una delle, come dire, delle grandi idee di Papa Francesco. Già da quando era cardinale a Buenos Aires. Papa Francesco ha intuito che scartare i nonni vuol dire scartare tutte le generazioni. Le generazioni sono unite l'una all'altra, si sorreggono, proprio perché la vita è nasciamo, cresciamo, diventiamo adulti, diventiamo anziani e il ciclo poi continua. Interrompere questo ciclo vuol dire l'insensatezza di fermarsi solo a pensare a se stessi. L'individualismo, l'egocentrismo brucia tutte le età. Tanto è vero che noi ci teniamo di fronte in Giappone esponenziale alla tragedia di tanti ragazzi che con il computer si chiudono in casa e non escono più. E anzi, mi lasci dire, questa nuova tecnologia favorisce di molto il rapporto tra i giovani e gli anziani. A me è capitato quando stavo a Terni di notare una cosa, che quando gli anziani hanno appreso dai nipoti a usare il computer, è risaltata fuori una cosa, gli anziani non sanno fare i tweet, scrivono le lettere. Aspetti, aspetti, Don Vincenzo, su questo ci aiuta Emilia. Sì, perché Don Vincenzo diceva due cose assolutamente reali, ossia gli anziani e le anziane hanno iniziato ad avvicinarsi molto di più alle nuove tecnologie per riuscire ad essere in contatto, soprattutto pensiamo a questo tempo passato di pandemia, per stare in contatto con i nipotini, le nipotine, tutta la famiglia, ma vengono da un altro mondo. Quindi questa indagine portata avanti dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca dell'Università di Milano Bicocca proprio aveva come cuore della ricerca l'invecchiare nella società della rete. E che cosa è venuto fuori? Che solo il 7% degli over 65 italiani utilizza i social network ed è la percentuale più bassa dei nostri colleghi europei, diciamo. Però è venuta fuori, secondo me, un'altra cosa interessante per questo nostro discorso. È stato fatto un esperimento di due mesi. In due mesi si è visto che chi tra questi anziani e anziane utilizzava i social network in maniera preponderante, non aveva un miglioramento nelle relazioni rispetto a chi queste relazioni le portava avanti dal vivo, diciamo. Ora si scatena molto. Quindi... Vincenzo si scatena. No, beh, sicuramente in una situazione di distanza hanno fatto moltissimo i social network, però effettivamente forse una relazione deviso e diversa, insomma. Sì, ma io credo che bisogna assolutamente favorire l'incontro tra le generazioni. E l'incontro è incontro. Cioè visite, parole, abbracci, comunicazioni. Cioè va moltiplicata la relazionalità. Anche gli anziani hanno bisogno di relazioni. La solitudine uccide. Don Vincenzo, seccamente, in un minuto, lei viene da un paesino, no? Sì. Poi ha operato, diciamo così, a Terni, che è una cittadina medio-grande, e adesso vive a Roma. Cambia molto la vita degli anziani in queste tre realtà? Beh, non c'è dubbio che è diversa. Ma c'è una condizione. Non perdiamo la relazione tra le generazioni. Se c'è il legame, vivere in paese, in una cittadina o in città, è la condizione più bella e più male. Il punto è come viviamo da anziani. Perché noi italiani, Don Vincenzo, campiamo molto, ma spesso campiamo male gli ultimi anni della vita. Rita Levi-Montalcini e poi ne parliamo. Nel mio caso la vecchiaia non esiste. Nel mio particolare caso ognuno di noi può progettare la propria vita e non avere vecchiaia. Se per la fortuna non è ammalato, io sono fisicamente, malgrado il mio fisico, che dimostra i miei anni anche troppo, troppo solo e preso da giovane. Ma insomma, tolto quello, la vecchiaia non esiste perché il mio cervello, io direi, ha lavorato e lavora come in passato. È essenziale mantenere il cervello in massima attività. La vecchiaia avviene soltanto a quelli che non hanno saputo utilizzare bene queste capacità o che hanno paura, paura della morte, paura della malattia. Io non ho paura né della morte né della malattia. Conta anche la genetica un po' di fortuna, in realtà. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io però mi lasci dire che il più grande nemico della vecchiaia è l'idea che noi ne abbiamo perché la vecchiaia viene considerata un naufragio. Neppure si vuole essere chiamati vecchi. In realtà non è così. Noi siamo, diventeremo milioni e milioni di anziani. Non possiamo considerare 4 milioni di ultraottantenni un naufragio. Sarebbe un paese disastrato. Quando però cominciamo a degradare dal punto di vista cerebrale purtroppo succede. Secondo me il problema non è quello. certo che c'è un problema di degradare ma noi però sappiamo che la vicinanza, l'affetto, l'amicizia ci sostiene anche nei momenti difficili ma non accade che quando uno è mollato dalla ragazza gli piglia la crisi e non vuole più vivere e l'amicizia di altri che magari lo sostengono. L'indebolimento riguarda tutte le età della vita. Nella vecchiaia si ingigantisce. dobbiamo ingigantire il rapporto, l'affetto, la visita, le relazioni perché questo è quello che rende umano il mondo ma se io avessi tutte le ricchezze del mondo e sono solo sarò triste. Questa è una citazione angelica però. È quello che disse Dio mi lasci raccontare questa cosa agli ascoltatori. Anche Dio ci ha ripensato. In che senso? Nel senso che quando fece Adamo lo fece perfetto. non c'aveva un muscolo fuori posto. Lo guardò si accorse che era triste e il Padre Eterno disse non è bene che l'uomo sia solo. E gli appioppò Eva. Il capolavoro. Questo sì viva le donne il capolavoro. Però è il rapporto che ci rende felici. C'è un capitolo molto bello verso il compimento che parla della morte del morire della prospettiva oltremondana. Lo vediamo attraverso un film molto bello Ella e John di Paolo Virzi. Andiamo verso sud. Questa è l'idea. Dalla tua famiglia. Quale famiglia, John? I miei sono morti da un pezzo. Morti tutti quanti? Sarei curiosa di sapere com'è la sua. Se è un posto dove per tutto il giorno si canta e si balla bevendo Happy Swirl dal mattino alla sera. Tu come te lo immagini, John? Come pensi che sia dopo? e lui canta, non risponde. Lei scrive qui un paragrafetto, il meglio deve ancora venire. Però questa è una società secolarizzata in cui difficilmente si pensa al dopo con una prospettiva. O meglio, in genere oggi si pensa al dopo come uno finisce un po' in un generico mondo energetico. Il Vangelo ci dice che il dopo è umano. Saremo risorti, ci vedremo, ci abbracceremo, potremo stare insieme. il dopo non è la fine, la morte non è la conclusione, è come un passaggio. E questa è la grande tradizione presente in tutte le religioni. Lei pensi... Ma se uno non ci crede, Don Vincenzo? Ma se uno non ci crede, vabbè, se uno non ci crede, ascolti anche chi crede. Io nel mio libro, proprio lì, chiedo a chi non crede, parliamone. Perché non parlare di questi temi ci fa perdere, ci fa diventare muti. Non sappiamo più che dire. Non allontaniamo, non disdegniamo le grandi tradizioni religiose. Quando noi stavamo nelle palafitte, gli egiziani hanno costruito le piramidi per i loro morti. Quando noi avevamo le prime casette, i romani hanno costruito dei sepolcri splendidi pensando che la vita sarebbe continuata. Ora, non disdegniamo di riflettere su questo. In questo senso, pensare anche alla morte come un passaggio che ci introduce in una vita che sarà umana e per me anche migliore, non è che disturba, anzi, a mio avviso, ci fa sperare un po' di più sapendo che tutti i popoli questo è un altro punto importante che noi andiamo verso una destinazione comune. Dobbiamo aiutarci perché il futuro sia bello per tutti. Lei insiste sempre sulla dimensione comunitaria, sociale. Allora chiudiamo con delle immagini che ci permetteranno di fare un'ultima domanda a Don Vincenzo. le note di musica leggerissima per festeggiare la vaccinazione e la speranza di tornare ad una vita normale. Il video realizzato dagli ospiti di questa residenza per anziani della provincia di Padova è diventato subito popolare sui social. Ballano tutti al ritmo della hit di Sanremo. Cosa significa per voi essere vaccinati oggi? Si spera che vada meglio e di tornare come prima. E cioè Don Vincenzo le RSA non dico che le combatta ma lei ha detto no preferisco altre soluzioni però sono anche un luogo di compagnia. Le RSA devono riconvertirsi devono inserirsi in questo lungo panorama dove quando è indispensabile possono anche essere ovviamente ospitare dei malati sperando ovviamente che guariscono e poi tornino nelle loro case. Non possono essere dei luoghi dove si viene istituzionalizzati. Fino ad ora era solo questa la risposta. C'è una rivoluzione culturale da fare visto che in Italia oggi nell'RSA ci sono 280.000 persone di cui più di 90.000 autosufficienti che potrebbero stare anche a casa ma ce ne sono 2 milioni e 7 che stanno già a casa noi dobbiamo farli restare lì ed aiutare la loro vita e l'RSA lei non vuole che muoiano in ospedale da soli. No io vorrei che si tornasse a morire a casa circondata dai propri amici e dai propri affetti perché anche la morte vita anche Vincenzo le faccio una domanda lei è un uomo anche molto franco e molto simpatico molto diretta il sacerdote spesso è un uomo solo quando voi morite chi avete accanto? Io personalmente ho io per esempio quando io ero vescovo a Terni avevo una casa per anziani sacerdoti non ci vuole andare nessuno io pensavo e quale cosa quale prospettiva io volevo che i preti anziani rimanessero nelle parrocchie e sarebbero stati accuditi sarebbero stati circondati dai parrocchiani è successo? in qualche caso sì e sono morti accuditi sono morti assieme ai parrocchiani che lo conoscevano quindi bisogna rendere la morte umana non disumana non segnata dalla solitudine in questo senso è una rivoluzione culturale da fare io sono lieto di poter partecipare a questa trasmissione perché davvero quante storie di solitudini noi dovremmo fare lei ne vede tanto nella sua vita quotidiana ne vede tante di storie di solitudine sì purtroppo visita molti anziani soli ho visitato sì certo ma cercando poi di trovare dei co-a per esempio con la comunità di Sant'Egidio a San Giovanni nel quartiere di San Giovanni due anziani solo hanno accolto in casa avevano uno spazio un barbone e vivono tutti e vivono insieme per dire la creatività è importante in questo contesto cioè non è che è tutto scontato e va da sé c'è bisogno che ciascuno di noi inventi l'età da inventare inventi nuovi modi di vivere assieme quando qualcuno vuole amare e desiderare fare i salti mortali ecco noi dovremmo fare oggi i salti mortali perché in Italia tutti noi possiamo dire qui si invecchia bene Don Vincenzo grazie di essere venuto negli studi di Quante Storie Vincenzo Paglia con l'età da inventare la vecchiaia fra memoria ed eternità Emilia grazie a te grazie a voi grazie a chi a casa ci ha seguito e ci rivediamo presto a domani